Non sia solo una farfalla occasionale che adesso ti gira tra i capelli, ma qualcosa che ti possa viaggiare nel sangue, fino al cuore. Iniziamo con la caccia. Daniele, sei sicuro che porta bene questa cosa? A Verona la fanno con Giulietta, però qua non lo so, sinceramente. Stregherie. Se inizia così la giornata andiamo bene, dopo credono dove sono andati Gianni e Dani. Daniele è proprio entusiasta. Mi sono addormentato nella stanza del processo e devo dire che adesso sto molto meglio. Eh caro corvettino, dateli a mangiare i corvetti perché sono tante farine. I miei ministri dicono che sai leggere il futuro. Non sia solo una farfalla occasionale che adesso ti gira tra i capelli, ma qualcosa che ti possa viaggiare nel sangue, fino al cuore. Che tu creda tanto o poco alla stregheria. Ci facciamo pure la mostra degli squali. Il calamaro di giocarte fu creduto una creatura mitologica, invece poi fu ritrovato su alcune spiagge. E si vede che era assolutamente vero, esiste veramente. E si vede che era assolutamente vero. E se vede che era assolutamente vero. a presto C'è un mercatino qua, perché due campanili? Come vediamo le chiese sono due, ecco perché due campanili, sono due chiese inglobati in una. C'è il tempo, è preciso, e che faccio subito? Cioè, se non ci sono due tre lato, vai cazzo da là, non nemmeno da fare. Non sia solo una farfalla occasionale che adesso ti gira tra i capelli, ma qualcosa che ti possa viaggiare nel salone, fino al cuore. Ciao!